Grazie mille, grazie, 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 grazie mille. Ah ragazzi, che cosa stiamo giocando? Stiamo giocando a Autobus Simulator. Mi stai in nome dell'azienda. Bus con i culi SPA. Bus con i culi SPA. No, non posso fallire. Se è attivata, non è possibile accumulare una quantità infinita di debito. Mi va bene. Bus con i culi SPA, va bene. Guarda che bello che sono. Ma io posso guidarlo? Oh, oh, è... Riuscirò a vedere una live di ice con D.D. insieme? Magari, uff, magari, false. Magari, magari, magari. Vedere il tutorial? Pff, no. Ok, cosa devo fare? Obiettivo attuale, la città di un diazione di un buon senso di servizio... No, 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 però devi stare zitti. No, no, questo è il mio commentary. No, 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 no. No, no, no. Sì, ma come faccio a farlo stare zitto? Ok. Audio, audio, audio. Volume di rischio... Ok. Allora, fatemi fare. Crea. Aumenta l'efficienza. Scegli un condu... Non ho dei condu... Non ho niente! Ok. Guida. Sass. Guida. Ok. Sesto anno, K, cosa? Sei anni, ma che cosa? Non abbiamo SD, ma abbiamo D2 e Ben. Mamma mia, Ben è molestissimo che mi entra nella live e parla. Sto giocando. Aiuto! Ma scusa, la telecamera perché è un po' in terza persona, un po' in prima. Cosa succede? Posso anche correre. Aiuto, quanto corre male, però aiuto! Ok, posso usare... Perché c'è un rastrello... Un po' in gibonzi lì. Ok. Come si sale su un'auto così da qua? Come faccio a salire? Ah, 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 c'è il bottone qua. Uela! Sì, ma io sono HB. Io salgo da qua. Estendi la rampa, vai. Ma non vedo, c'è la colonna davanti. Vai, vai, per me che sono disabile mentalmente. No, vabbè, togliamola. Come corremo? Aiuto! Cosa fa? Trasla tantissimo! Ho trovato un bug già. Posso... Ah, scusate, se io clicco qua... Se io clicco qua... No, non me lo fa più fare. Ok, se io clicco qua e poi corro... Guardalo, guardalo! Che bello! No, vabbè. Ho già trovato il bug più bello della storia. Si può fare... Posso andare sulle scale facendo così. Olè, baby! Woo! L'uomo di sapone! Che bello! Ok, si va. Porta ante... Chiudi, chiudi. Credo che sto traslando qua e là. Madonna, un autobus più pulito non l'ho mai visti. Ok. Cioè, dove ci sono io c'è la sbora sulle pareti dove prendo io. Apri... Ah, merda. Aiuto, sono bloccato per sempre. No. Ok. Apri un secondo qua e cancello. Ok. E si esce, baby! Si va, si va. Ok. Stazione radio, porte. Ok. Chiudi. Cos'è questo tastino? Ok. Come faccio a partire? Gira la chiave. Come faccio a partire? Come faccio a partire? Eh, non mi fa partire, però. Controlli. Allora. Interagire. Conferma. Return. Cosa vuol dire? Ah, B. B o N. No. Quindi se io fa... Cosa? Ah, entra nella... Ah, dovevo entrare nella cabina. Quanto specifico. Gira la chiave a sinistra. B. Vai. Eh. Ah, G era la destra? N. Ok. Lo abbiamo acceso. Ok, ragazzi. Sono un pilota. Allora. Aiuto quanta telecamera. Utilizza la cassiera. Vai. Usa, usa. Eh, usa... Cos'è? Posso rubare? No. Ok. Queste sono. Sono. Eh, i fari del veicolo. Freno a mano. Sì, ok. Togliamo il freno a mano. Sennò qua non si parte. Ok. No, no, no. Vuoi modificare la qualità? Ma stai zitto. Il frame è rabbasso e c'è la tua sorella. Ok. Come faccio a partire, però? Oh! Aiuto! Ok, pronto, pronto. Eh, si levi. Si, signore. Quella macchina merda! Attenzione! Ok. 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 Chi è che vuole un passaggio in autobus? Sono nuovo di qui. Scusate, sono nuovo. Eh, scusate. Eh, mi ho presi. Come c'è stato un gran incidente? Ma volevano... Stavano aspettando. Ok. No, no, si fa, si fa il volo. Guida il sasso. Si fa subito. Si fa, si fa. Aiuto! Queste inquadrature sibilline. Ok, allora, accendi qua. Perché in prima persona adesso? Accendi qua. Chiudi le cabine là. Mettiti qua. E si va. Ah, il freno a mano, il freno a mano. Ok, e si va. No? Ho fatto il freno a mano. Ah, non ho acceso il veicolo. Ce l'ho fatta? Ok. Moncares. Attacco dei... Dei terroristi a bordo di un autobus. Ok, la mia prima fermata qual è? Questa? No! Non mi cambiare inquadrature. Ok, questa. Ma così, in mezzo alla strada. Cioè, nel senso... Ah, frena. Allora? Ah, devo aprire il porto. Come faccio a frenare sto oggeggio? Metti un po' il freno a mano, che se no non sta fermo. Ok. Scusate. Non avete fretta, vero? Ok. Allora. Accendiamo un po' le porte qua e qua. Ole, guardali, guardali, bastardi. Mi serve un biglietto. Aspetta, aspetta che non sono capace. Ok. Allora. Ti serve un biglietto. Eh, questo. No. Dammi i soldi, puttana. Eh, ma quanto vengo? È stressantissimo. Ok. Allora, left control. Sì. No. Allora, eccolo qua. Un viaggio. Eh, regionale. Un viaggio. Sì, questo. C'è un'ambulanza! Stampa. Dammi i soldi. Dammi i soldi. Ma non mi interessa l'ambulanza. Sì. Questo sto vedendo. Ok. Dammi i soldi. Posso... Puoi prendere i soldi? Cinque. No. Due... Due euro e venti. Ok. Gli devo dare due euro e ottanta di resto. Ok. Queste sono monete da... Non capisco. Ok. Due euro. E... Fatto. Due euro e ottanta e cinque. Mi ha fregato i cinque centesimi. Puttana. No. No. Ah, mi chiamiamo... Mi chiamiamo... Guido con le porte aperte. Allora. Madonna. No. Me ne vado, eh. Ok. No, no. Ok. Andiamo. Porca. Che fastidio. Difficilissimo. Si va. Ok. Ok. Abbiamo lo specchietto lì sulla destra che è abbastanza comodo. Ok. Ma è bellissimo. Abbiamo una coda gigante. Cosa c'è? Mi scusi, la porta è aperta. Infatti cazzi tu. Guarda che mi fa investire la gente. Puttana. Questo autobus è come il 14 che prendi tu. Come fate a sapere che prendo il 14? Quanto leakhead. E sì che prendo il 14, ma non capisco come facciate voi a saperlo. Ho chiuso le porte così non cagate più una minchia. Chi è che ride lì dietro? Oh, silenzio nel mio autobus. Allora, ridono. Ok. Merda. Eh, un attimo perché... Ops. Come? Aia! Attenzione, incidente. Passato con il rosso, meno 80 euro. Shhh. Non importa. Qua ho dei clienti che devono arrivare in orario. Ecco qua gli altri. Pronti? Salite al volo, per favore, che non ho voglia di fermarmi. Salite al volo. Grazie, mille. Grazie. Eh, scusate. È un po' difficile farlo stare fermo, sì. Ok. Ho messo il suo freno a mano. Pagami però, stronzo. Quanto lento? Veloce? Qua c'ho un lavoro. Tre regolari, un viaggio. Ok. Ok. Tre regolari, quindi... Uno, due, tre. Stampa. Ok, mi ha dato dieci. Devo... Ok, devo dare... Tre quaranta. Voilà. Ok. Ok. Parti al volo e falli cadere. Due studente. Un viaggio. Ok. Eh... Stampa. Ok. Cinque euro devo... Due e venti devo dare. Due e venti. Ok. Ma è fighissima in verità. Basta? Se tu ti abordo bene, si va. Ah, il freno a mano. Giusto, giusto. Vero. Ok. Io non l'ho mai visto comunque. Eh, non posso far... Vorrei farli pagare il dia più, ma non posso. Ma intanto stanno parlando in sottofondo. Che sciocco, accidenti. Ah! No, 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 no. Stavo guardando la chat. C'è una chat lì in basso a destra. Levati te con sta macchina brutta. Donna, che schifo. I passeggeri vogliono abbassare la temperatura nell'autobus. E va bene, che si arrangino. Qua sono la babysitter. Quindi... Luci, spegni il motore, attiva controllo. Cosa è questa roba? Oddio, che noia! Eh, com'è? Cos'è? No. Aumento da... No. Vogliono abbassare. Diminuzione di temperatura. Ah, adesso congelate. Eccoli lì. Ok, congelate. Ma perché io sono lo slender? Congelate, stronzi. Ma guarda dove vai. Ho capito, ma stavano parlando. Via, via dalla strada. Stavano parlando. C'è il controller che mi vibra. Eglielo! La vecchia, la vecchia, la vecchia. C'è la fermata qua con la vecchia. No, no, no. Fermo, fermo. Vai in retro. Ok. Apriamo qua le porte. Aiuto! Sono tutti impiccati! Ok. Easy! Easy! Fatto? Fatto? C'è qualcuno che deve essere... Oddio. Eh, non paga quella lì? Ah, no, ok. Me l'ha dato. Biglietto venduto, ok. No, no, no. Non devo fare niente. Via. Altro che... Ah, no, no. Stiamo partendo. Scusate, ma siamo in una leggera discesa. Limite dei 50. Dove vedo? Ah, eccola lì. Stiamo andando a 50 adesso. Su via. Ok. Stiamo a 50 adesso. Prossima fermata. Crowns on Red Street. Avete sentito, merdacce? Cosa sto... Ah, ho battuto un lampione. Eh, ragazzi, tranquilli. Ok. Guardali come traslano. Eh, sì. È bellissimo. Allora, ragazzi. Allora. Io non ho mai preso la patente di autobus. Quindi state buoni. Ora voglio provare. State fermi. Non prenotate. Che io già so. Voglio provare a fermarmi. Col freno a mano così. Mamma mia che frenata perfetta al volo. Ok. Ma come cazzo guida? Benissimo. Non so. Ok, vabbè. Questi qua stanno ancora scendendo. Che cazzo se ne frega. Io qua ho un lavoro da fare. Hai raggiunto il capolinea? Ok. Se no torno al garage e parcheggio. Ma sì, parcheggio. C'è una cosa di macchine dietro. Guardate lo specchietto. Eh, no. Non potete vederlo. Guardate lo specchietto destro. Eh, no. Non si vede. Dallo specchietto sì, sinistro. Si vede che c'ho dietro una cosa di macchina infinita. C'ho una cosa infinita dietro. Ma cosa dite? Nella vita reale dito guida benissimo. K, 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 K. A parte che non lo puoi sapere. Non lo puoi sapere perché praticamente mi hai visto guidare e basta. Non hai mai vissuto davvero la mia guida. Se quella macchina rossa sta in mezzo al cazzo non è colpa mia. Comunque guido benissimo sì. E come se guido benissimo. E come, ragazzi. E come. Non vi permettete anzi di pensare male. Perché guido estremamente bene. E fa incidenti intanto, Woodface. Che che ora è? Ok, 28. Vediamo un po' com'è la seconda guida. Se è figa. Uh. C'è lo zoo in città, te. Va che è figo. Visto? Visto? Posso tranquillamente guardare i cartelli e le cose così. Senza dover per me forza ammazzo di gente. Siete voi che pensate male. Dido guida. Omega Lul. Certo. Non avete visto le live dove guidavo. Ne avrò fatte tre dove... Mentre ero alla guida. Cos'è che mi blocca? Niente. C'è un bug. Cos'è sto casino? C'è un bug. Allora. Sembra che c'è qualcosa sotto. Tipo sei cadaveri. Ok, direi che siamo arrivati. Direi che siamo arrivati. Bellissimo comunque, ragazzi. Bellissimo. Miglior gioco della storia. Peccato per i tasti stra-incasinati. Signore, lei si deve levare che io qua parcheggio però. Ok. Et voilà. Et voilà. Ok. Saea. Spegniamo qua. B. Ok. E ce ne andiamo. Incredibile. Incredibile. Ah, ma non è ancora finito. Ma no, ma sto aprendo la cassiera qua. Vabbè, invio e basta. Eh? Reddito di questa settimana meno 8000 euro. Oh yeah, baby. È andata bene, dai. È andata bene alla fine. Credito. Ecco, vedi? Allora, per i biglietti ho guadagnato 3000 euro. Ma cosa dici che sono venuta più volte in macchina con te? Ma non è vero. Tipo... Una volta al mio compleanno, mi sembra. Sì, sì, una volta al mio compleanno. Oh, era un po' ambigua così a... No, una volta al mio compleanno, mi sembra. L'entrata da biglietti venduti questa settimana 3000 euro. Spese per incidenti 10.000 euro. Multa per essere passati col rosso 100... Ma sì, ma ci stiamo dentro. Personalizza, sì. Viola, sì! Sì. Quanto bello. Ha scivente sbloccato così. Lavoretto in autobus si chiama, ma quanto ambigua. No! L'ho fatto via... Ah, ok. Basta, posso fare solo questo? Ok. Cosa devo fare ora? Modifico. Via te. Clicco qua. Faccio salva. Sì. Sass. Avvio rapido. Vai. Ora voglio un secondo vedere com'è viola, però. Ah, ma non me lo fa vedere da fuori. No, invece sì. Faccio così. Guarda che bello che è. Guarda che bello che è. Levo un po' il freno a mano e via. L'ho tolto il freno a mano. Ma l'ho tolto! Ah, non ho acceso la macchina. Ma non si accende. Ma... Ma non si accende quest'uomo! Oh. Oh, mamma. Autistico, smemorato, nulla. Ma non è vero! Ero io in macchina che te... Che te mi stavi seguendo. Non è assolutamente vero. Mi stavi anche seguendo. Che io poi t'ho preso in giro perché guidavi piano. Guidavi lenta. T'ho anche preso in giro. Non sa accendere il bus. Omega Lul. Non ci riesco! Ehi, i miei clienti direi che aspetteranno un attimo. Allora. Se io schiaccio B, spengo tutto. Oh, adesso è partito. Per guidarsi cosa ti disattivare il freno a mano. L'ho già fatto! Devi piegare la rampa. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Radio, radio. Aiuto. Siamo partiti? Siamo partiti, baby! Ma zitto. Eh, aveva... Vedi che non è vero. Vedi? Cioè, guidavo io che ti prendevo per il culo perché guidavo più veloce. Eh no, cazzo, non ricordo. Non sono così scemo. Quindi in macchina mia ci sarai stata tipo al mio compleanno e quando mi hai dato il regalo di compleanno e basta. Scusate che qua c'è una manovra un po' difficile. Eh, sì, ecco. Sì, è un attimo. È un attimo perché qua ci sono delle strade che, vedi, un po', un po', un po' fregano perché... Ecco, insomma. Quella macchina cosa fa? Cosa fa? Quella macchina passa attraverso tutto. Allora, grazie, anch'io sono capace. Oh, le. Però ce n'è un'altra che mi dà fastidio adesso. Oh, le. Ok. Ok. Ci abbiamo fatta, ragazzi. Non vedo... Non è andato niente storso. È andata benissimo. È andata benissimo. Oh, le macchine che si buggano nelle pare... Quante leggi avrà già infranto? Oh, le. Ok. Tira il freno a mano al volo. Mamma mia, frenata perfetta. Ho preso qualcuno? No. Te. Perfetto. Mi dica, Giovanotto. Tre regolari, ma certo. Ma certo. Mi dia dieci. Io le do... Quanto deve pagare? Sei sessanta. Le do una banconote da cinque... Le do mille banconote da cinque, porca puttana. Olè. Gli ho dato tre euro e cinquantacinque come resto. Tutti in banconote... In monete da cinque centesimi. Due regolari. Tenga... Come no? No. Cinque euro. Ne tenga sei come... Ne tenga... Ventotto come resto. Ventotto euro gli ho appena dato. Ero e uno. Cinque euro. Ne tenga quattro. Va. Sarà meglio che tenga quattro. Ok. Si parte, Giovanotti. Via, 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 via. Guarda come sono felici di essere sopra quest'autobus. Ok. Ora però si guida così. Si guida così adesso, però, eh. Siamo a 40 km. Signora, è pericoloso guidare con la porta aperta. Signora, invece lei non mi deve insegnare come... Come si lavora, magari, no? Sono io qua che guido, non lei. Quindi magari... Ahia, c'è una macchina. Quindi magari stia zitta. Ok. Perché sono io qua che sa quello che fa. Passato con rosso. Incidente. Guida con la porta aperta. Infatti, cioè... Oh, vedo che qua però c'è una curva abbastanza stretta. C'è stato un grave incidente. Ma come? Ma... No, basta. Basta. Salva ed esci. Però mi sono fatto un trofeo, eh. Basta Simulator GTA Edition. Vabbè, ragazzi. Però non male, eh. Non male, eh. Non male, non male. Ivan. Le Hacked. Hai fatto un cambio di espressione memorabile. No male, ne man... Il problema...